Niente campanella, ma solo l'illuminarsi dello schermo di computer, tablet o smartphone. Per più di 6 milioni di studenti italiani, secondo stime del sito tutoscuola.com, dal prossimo 8 marzo la scuola sarà in digitale, secondo le disposizioni dell'ultimo DPCM vista la recrudescenza della pandemia. Un male necessario per frenare i contagi, secondo le autorità sanitarie, con il ministro e l'istruzione Bianchi che invita a confidare in un ritorno in aula che faccia tesoro delle innovazioni didattiche. Ci sono state infatti anche delle ripercussioni positive della DAD, a partire dagli stimoli ai docenti a mettersi in gioco, ma anche per alcuni ragazzi. Io ho visto degli studenti che sono venuti fuori bene in questa situazione, sono quelli che magari in classe erano un po' più intimiditi dal confronto, invece questa dinamica li libera. Resta però il macigno di mesi sottratti al vivere e crescere fianco a fianco. In classe l'insegnante nota tutta una serie di segnali che lo aiutano anche a supportare situazioni di difficoltà o di distrazione che qui sono oggettivamente più difficili a tenere d'occhio. E poi il peso sulle famiglie è costretto a dover contemperare la presenza accanto ai figli più piccoli con le esigenze del lavoro, situazione che ha messo in crisi soprattutto le donne. Continuiamo a sacrificare il nostro lavoro per stare a casa, in più non hanno rinnovato i congedi parentali, quindi pur considerando il fatto che i congedi non coprono l'intera platea dei lavoratori e delle lavoratrici italiane, ma solo una parte, ciò nonostante anche questa tutela non è stata ancora rinnovata. A tale scopo si attende il prossimo decreto sostegno che dovrebbe arrivare entro metà marzo.